Io ho frequentato il liceo scientifico indirizzo tradizionale al liceo scientifico appunto Bertrand Russell a Garbagnate milanese. Già alle medie avevo le idee chiare rispetto a quello che comunque voleva essere il mio percorso superiore pur consapevole che comunque probabilmente non sarebbe poi stato il percorso che avrei intrapreso all'università. Infatti attualmente frequento il primo anno di giurisprudenza all'università degli studi di Milano. Frequentare il liceo scientifico mi è stato molto utile per consolidare quelle che sono le basi della preparazione teorica per poi affrontare un'università di questo tipo. Infatti sicuramente giurisprudenza richiede da una parte un'attitudine allo studio teorico ma allo stesso tempo richiede anche un grande utilizzo della logica in quanto molti concetti devono essere prima capiti per poter poi essere ricordati e quindi a questo punto di vista un indirizzo di tipo scientifico mi ha sicuramente abituata in maniera positiva in questo senso. Sicuramente ero indirizzata sin dall'inizio a frequentare l'università a Milano dato che ritengo che questa città possa offrire degli alti livelli universitari mentre per quanto riguarda la scelta specifica di frequentare l'università degli studi di Milano questa scelta è stata la conseguenza di una serie di confronti fra le varie università infatti ho sicuramente partecipato agli open day di tutte le varie università ma ho anche deciso di avere dei confronti più diretti ad esempio tramite dei colloqui privati in cui si possono richiedere delle informazioni riguardo al percorso di studi alle modalità di esame anche ai costi ed eventuali agevolazioni economiche e alla fine ho scelto la statale di Milano principalmente perché mi piaceva il fatto che permetteva di seguire un percorso che era univoco per tutte le per tutti i cinque anni mentre per quanto riguarda la cattolica da un certo punto in poi c'è una sorta di diramazione in cui bisogna scegliere già un proprio percorso che magari una persona potrebbe durante gli studi non essere ancora pronta a intraprendere e invece grazie alla statale si possono seguire quelli che sono gli esami generici per tutti diciamo per tutta la facoltà ma poi poter scegliere quelli che sono degli esami facoltativi in base ai propri interessi senza però seguire un percorso già predefinito come ad esempio il percorso forense o il percorso amministrativo che potrebbe poi rivelarsi magari non la scelta più adatta per una persona. La vita universitaria è molto diversa rispetto a quella del liceo in quanto ovviamente sono diversi gli orari che possono variare ogni giorno in quanto avevo ad esempio giorni in cui avevo solo un'ora di lezione e altri giorni in cui avevo sei o sette però d'altro canto c'è anche sicuramente un discorso un fattore diverso rispetto all'organizzazione in quanto lascia molta più libertà dato che almeno per giurisprudenza le lezioni non sono obbligatorie per quanto comunque consigliate e soprattutto perdere una lezione non significa perdere parte del programma perché le lezioni sono solo dei supporti per poter comprendere meglio il programma effettivo. Per quanto riguarda invece le ore di studio durante i periodi di lezione si studia giusto qualche ora al pomeriggio magari riprendendo gli argomenti fatti a lezione però diciamo senza l'ansia che caratterizza le superiori di magari scadenze immediate o dell'interrogazione o comunque della prestazione. Mentre adesso sono in sessione e onestamente in questo periodo sto studiando circa otto ore al giorno ma anche in questo caso è assolutamente soggettivo poiché ad esempio nel mio caso ho scelto di dare gli esami molto avvicinati per poter avere poi più tempo libero alla fine della sessione ma dato che ci sono ben quattro appelli in realtà sarebbe anche possibile distribuirli in un tempo più lungo e sicuramente studiare magari anche qualche ora in meno al giorno. Una novità che non mi aspettavo rispetto alle superiori è il fatto che all'università c'è proprio una diversa concezione dell'organizzazione. Infatti sono arrivata all'università quasi spaventata pensando che dovesse sostenere gli stessi ritmi delle superiori a livello di scadenze, di impegni di organizzazione avendo però una mole molto più grande. In realtà ho poi scoperto che c'è proprio una flessibilità totalmente diversa. Infatti come dicevo seguire le lezioni non è necessariamente obbligatorio. Anche la lezione che potevo aver perso di fatto non ha infiacciato il mio studio perché lo studio avviene principalmente dal libro e anche magari non studiare tutti i giorni non vuol dire essere indietro perché potendo organizzare il proprio studio liberamente non si deve sempre inseguire magari una scadenza che può anche essere spostato o comunque che non è rigida come a scuola. Quindi sicuramente andare all'università mi ha tolto quel peso dello stress e dell'inseguire quelle scadenze che sono ovviamente vincolanti. Giurisprudenza è una laurea magistrale a ciclo unico, il che vuol dire che contrariamente alla maggior parte delle lauree non si svolge su tre anni ma su cinque anni. Alla statale funziona che da settembre a dicembre si svolgono le lezioni, da dicembre a febbraio la sessione, poi fino a maggio di nuove lezioni e poi ci sarà la sessione estiva. Contrariamente magari a una laurea triennale che può essere composta da tre anni, più due anni di magistrale, sicuramente giurisprudenza consente una certa continuità e quindi è anche un'opportunità di approfondire magari di più certi concetti in quanto rimanendo sempre all'interno dello stesso contesto per più tempo si può assorbire di più quella che magari la mentalità di una certa facoltà, la quale sicuramente consiglierei da una parte a chi desidera approfondire quelli che sono gli aspetti del nostro ordinamento ma inteso come avere una maggiore conoscenza della realtà anche politica che ci circonda ma soprattutto chi si sente disposto ad affrontare un percorso di studi che è sicuramente di tipo teorico quindi bisogna sicuramente avere una certa attitudine allo studio teorico, studio diciamo di manuali ma soprattutto chi poi prevede nel suo futuro, almeno secondo me, un percorso di tipo sempre legato in qualche modo allo studio perché secondo me è un tipo di facoltà in cui non si smette mai di studiare in quanto bisognerà sempre rimanere aggiornati, non è secondo me uno studio che può in qualche modo finire al momento della laurea. Questo tipo di facoltà non apre strade solo di tipo classico come ad esempio l'avvocatura o ad esempio il notaio ma apre tantissime strade che sono comunque legate al mondo del diritto per dire una strada secondo me poco esplorata è quella della figura amministrativa che tanti dimenticano in quanto una persona pensa a giurisprudenza vuol dire avvocato ma in realtà apre strade anche a livello magari aziendale o comunque anche di liberi professionisti è una facoltà estremamente versatile ma che appunto presuppone una certa attitudine e una certa determinazione in quanto è appunto un percorso molto lungo Sicuramente, spero, avrò finito il mio percorso di studi però dato che sono ancora all'inizio non riesco ancora a immaginare che direzione potrà prendere in quanto appunto come dicevo questo percorso è estremamente versatile e apre molte strade però sicuramente sono sicura che l'ambito giuridico è l'ambito in cui voglio lavorare quindi sicuramente il mio percorso di studi è la strada che mi appassiona e quindi spero in qualche modo di poter mettere le mie conoscenze e le mie capacità al servizio di quello che è un bene etico se così possiamo dire perché penso che chi fa giurisprudenza alla fine studiando il diritto si metta a disposizione per perseguire fini morali, sì, che sia poi l'avvocato che difende qualcuno o anche una figura all'interno di un'azienda o comunque una qualsiasi figura legale che possa mettersi a supporto di altre persone